Aquarius 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 Qui ogni cliente ha il suo abito personalizzato noi facciamo molti abiti su misura per quei clienti speciali io sono appena tornato dalla Russia in una giornata abbiamo avuto la visita di 30 importanti personaggi ai quali abbiamo già spedito dopo 45 giorni il loro abito personale Abbiamo combinato il Kashmir con il visone rasato che è più uomo che non il visone lungo e la combinazione appunto del cappotto di Kashmir con esterno flanella di Kashmir è una cosa che ha avuto un grandissimo successo che hanno scoperto i mercati dell'est che ha avuto un po' 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 che sia Ismail FTV.com